No, c'è la sorpresa? Beh, vabbè. Ciao amici, un nuovo appuntamento con Febbre A90. Oggi l'ospite è un amico, un ex calciatore, questo è molto importante. Franz, come stai? Non esageriamo ex calciatore. Beh, hai giocato? Sì, siamo tutti ex calciatore. No, ma tu a più alto livello. Una volta stavo andando in America, sai quanto a terra ti fa compilare? Professione è calciatore. E dimostra il contrario. Io cavo tre volte a settimana, poi che non ci vivo è un problema mio. Io mi sentivo calciatore. La mia ex che mi ha detto, ma perché scrivi? Perché io mi sento calciatore. Hai giocato fino in promozione? Promozione, sì. E' divertente? Sì, sì, sai, è il primo limite in cui inizia a vivere il tatticismo. Mi ricordo che c'era un attore che mi diceva, il cerchietto del centrocampo, dividere in quattro specchi, se superi la parte di lato io sostituisco. In certe partite dove dovevamo difendere. Grazie, per cui io non guardavo neanche, guardavo sempre per termine. Perché se è in cambio, mi diceva che devo stare. Però devo dirti che questo mi è servito dopo, quando ho potuto giocare, perché quando ho smesso di giocare ho iniziato a fare le partite serie, la partita del cuore con Del Piero. Io ho giocato con Del Piero e con Didane, ho fatto due gol a Taccone, uno di destino. Hai segnato a San Siro. Ho segnato a San Siro, al portiere del Genoa, quando aveva giocato in finale, il portiere che aveva giocato con il Genoa contro il Liverpool. Insomma, ho fatto, me le sono tolte tutte dopo. Però anche a quei livelli, la cosa bella è vedere queste persone, non ti danno la palla finché non capiscono. Se la sai tenere, se sai giocare. Non te la danno. No, perché vogliono lì. Io una volta ho giocato con il Bindun con Beppe, non mi hanno mai passato, mi ha dato una palla a Noni e ho segnato. Mi ha fatto un cross incredibile, io ho segnato e da lì mi hanno passato. Perché ti sei guadagnato la credibilità. Però è bello. Milanista, non l'abbiamo detto, la tua passione è Milan. Noi iniziamo sempre con questa frase, che è nel libro Febbra 90 di Nicro Orbi, dove si dice che per diventare un tifoso di calcio ci vogliono anni. Ma se ti applichi ore e ore e entri a far parte di una nuova famiglia, solo che in questa famiglia tutti si preoccupano delle stesse persone e sperano le stesse cose. Quando hai capito di essere entrato a far parte della famiglia in Milan? Ma io sono nato, non sono entrato, sono proprio nato perché io sono milanista perché mio papà era milanista di quelli veri, fin troppo, vedere la partita di mio papà era impegnativo. Perché? Perché era fastidioso, era un... Che l'aveva costantemente con tutto ciò che andava contro il milan. I tempi, quando c'erano ancora le radioline, non esisteva quel ben di Dio che c'è adesso di poter vedere partite. Mi ricordo che magari mi perdevo qualche partita, lo chiamavo, non c'era un cellulare. Papà, quanto ha fatto il mio? Lui l'aveva sentita la radio, l'ha perduto. Eh, l'ha perduto ma l'ha meritato. L'ha dominato tutto il tempo. In dialetto ha perso, ma ha dominato tutto il tempo. E mi ricordo che una volta sono entrato in casa e ho detto, papà, ma perché non c'è l'audio? Non funziona? No, no, che lei parla contro il milan. Quel telecronista lì parla contro il milan. E io non c'era meno. No, non c'era ancora tu. Però ho visto una famosa Lazio-Inter con mio papà sul divano, ed è stato bello. Sì, sì. Eh beh, sì, insomma, vederli Inter perdere lo scudetto così con mio papà sul divano. E sul letto di morte, mi ricordo che mio padre mi disse, proprio sul letto di morte, gli avevo portato il televisore in camera e mi ha detto, mi sono chi a morì e poi di più vedei il milan vincere. Bellissimo il frase, però. Cioè, quella era una delle cose che gli eri spiegati. Io avevo un nipote, ho un nipote che è molto milanista, però ha avuto un periodo nella vita in cui non ha tifato niente di letale, però era tifoso dell'Udinese perché aveva fatto una vacanza a Udine e aveva trovato i calciatori. C'era Totò ai tempi, lui si era affezionato, gentile, quindi simpatizzava, era un bambino. Mi ricordo che è andato avanti un po', parlava, però finché una domenica mattina mi ricordo sempre che mio papà fece, e adesso basta con sta storia dell'Udinese. E adesso basta con sta storia dell'Udinese. Adesso basta, eh. Adesso sei cresciuto. E poi concludo l'ultima cosa, un ricordo meraviglioso di mio papà, il cinquantesimo di nozze, quindi andiamo a Mestre, mi arriva la carta del Papa, andiamo a pranzo, mio papà mangia il primo e fa... Vabbè, il mio... E ho detto, papà, dove vai? Galmida. S'è stato andato via e mia mamma mi guarda e mi dice, ma c'era una partita importante? E io ho detto, sì mamma, era a Milan Chievo, c'era a Milan Chievo, io non ho avuto il coraggio di dirlo. E io ho detto, papà ti ho detto, no no, vuoi pe, vuoi pe, ed è andato. E come si fa? E tu ma ti ha sopportato quindi il minasismo di tuo papà per i cinquant'anni di matrimonio? Il mio papà mi ha detto, ma sai, mi sono sempre andato a San Siro, mi dicevo, ho sempre avuto la testa, poi l'ho arrivata da lì, non andrei mai, arrivata da lì basta, è finito il corso. Ecco, allora, cosa rappresenta da milanista l'Inter, cioè come vive il derby? Ma lo vivo con un sano antagonismo, devo dirti che a Milano capisco ti fare il Milan e capisco ti fare il Milan, posso capire ti fare anche l'Inter, è una città che ha due squadre meravigliose, lo accetto, lo rispetto, lo vivo con goliardia, mi piace scherzare, essere preso in giro in questa fase della vita, purtroppo, un po' troppo, poi passerà, però mi piace scherzare, faccio un po' più fatica a chi nasce a Milano e ti fa altre squadre, altre realtà, però che a Milano si tifi il Milan, siamo fortunati, abbiamo due belle squadre, come lo è Roma, come lo è Torino, anche se già a Torino la competizione magari non è proprio agli stessi livelli e quindi lo accetto. Ma c'è ancora il Barusha e il Cacciavì o poi secondo te? Ma c'è l'atteggiamento, l'Inter sono tutti fatti con lo stampino, l'Inter sono tutti fatti con lo stampino, ancora adesso, adesso non so quanto vedrete la puntata, però l'Inter oggi ha 16 punti di vantaggio e si dice a Dalle, il mio socio che è molto interrista, domenica avete parigiato, che miseria, quanto siete a 6, quante giornate parigiato? Ma dai, grazie. Ma è verissima questa cosa. Ma basta sta roba, ma dai, ma basta. Eh, non ci sono mai, non ci sono mai. Eh, sì, no, no, aspetta, dirlo, scongiure, madonna. Dai, siete a 16 punti, ma l'avete meritato, tra l'altro, non avete rubato niente, finiamola qua, santo di un dio, no? No, 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 non dirlo, va, no, non ti alzare, non si può vedere la parte, non mi chiamare, ma quando c'è il derby, discutete con Ale? No, lui lo deve vedere da solo o al limite con i suoi figli, che sono ovviamente molto interisti, invece tu sai perché sei anche stato da me, ma a me piace, anzi mi piace essere circondato in un gruppo di interisti che viene da me, tra cui un ragazzo disabile, meraviglioso, e quindi averli lì non è facile, perché, però negli ultimi due anni sono state due le partite, e io ho visto con loro il Bologna-Inter. Ma lui ha l'invidia apposta. Io ho dieci interisti, ma di quelli che non riescono neanche a vedere la partita e che devono andare in bagno per questa cosa, che al terzo dio, che si entrano dicono, quella lì, quella sedia non c'era l'altra volta, perché l'hai messa? Perché se hanno di più, sì però, e adesso chi si siede, senti a scuola, non ho fatto dire la palla, se siete lì mi siedo io, per cui queste, quindi, due partite, vedere a Bologna, dove, quella sera c'era la Champions, quando l'Inter ha giocato, e mi ricordo sul 1-0, io ho detto, sentite, vabbè è tutto, però devi vedere una partita che finisce 5-1, ascolta, giriamo di là, cioè se va sul 2-0, 3-0 dai ragazzi, per cui vedere a un certo punto l'Inter che riesce a farsi gol su una sua rimessa laterale, e riesce a buttarsi alla dentro, cioè, onestamente, se tu disegni e dici cosa vorresti, non pensi una cosa così, e tra l'altro, quel gruppo aveva portato un loro amico, che non l'avevo mai visto, e non l'ho più visto dopo, ed è stato in silenzio di fianco a me, vabbè, a un certo punto, sul 2-1, a fine partita, questo ha tirato fuori la sciarpa del mio. Era un incognito. Era un incognito, questo mio amico Vincenzo, che è la mia vita, che è down, è interista, ha iniziato nel suo senso a dire cose, ha detto culo una quantità di volte, però ha capito anche lui l'essenza, e poi l'ho visto, avevo il gruppo in casa ancora all'eliminazione di Champions, e anche lì è stato un bel miracolo, perché insomma… Ma invece col Milan non ti capita di tirare sfighe, anche col Milan quando c'è gli amici che vedono il Milan? No, col Milan siamo in una fase in cui siamo un pochino più abituati ai risultati altalinanti, ogni volta che vedo il Milan per me il risultato è triplo, in questa fase, quindi sono più sereno. Anche se poi tutto sommato, al momento in cui registriamo, come dicevi giustamente te, il Milan è secondo in classifica, deve giocare la Coppa, però bene. Qual è stata la prima partita che hai visto allo stadio? Sai che non me la ricordo, mi ha portato mio papà e non ricordo la prima, io ho visto anche un po' di partite di Milan in B, che andavo anche durante il Milan in B, però la prima, la prima sai che non me la ricordo, ti chiedo scusa, ma non me la ricordo. E invece la prima nella quale proprio hai capito di essere milanista, cioè quella in cui ti sei più esaltato… Ma sai, io ho vissuto gli anni nel Milan di Sacchi, ho vissuto quegli anni lì, quindi lì ogni partita, perché poi è stato un crescendo, io ho ereditato, sono partito, dal Milan, dalla B. Sì, quindi poi l'idol, ma poi… Cioè, da lì siamo arrivati dove siamo arrivati, quindi ogni partita era, cioè, l'andata con il Real Madrid in cui abbiamo, un va-basta, hanno fatto quel gol in tezza, è stato lì stato il primo momento in cui abbiamo detto, porca miseria. «Questa è una squadra veramente diversa». «Riusciamo a segnare a Madrid, perché prima era un po' un fenomeno nazionale, dicevi sì, giochiamo bene, però…» E poi il ritorno, quella è stata un po'… «Dopo Milan-Napoli…» «Dopo Milan-Napoli…» «Dopo Milan-Napoli…» «Dopo Milan-Napoli…» «Dopo Milan-Napoli…» «Dopo Milan-Napoli, io sono andato a aspettarli anche…» «Ah sì eh?» «Sì, però sono usciti da…» «Dadietro…» «Dadietro…» «Sì, allora gli ho detto, mister guardi che una volta a Milan-Sandoria, c'era Pagliuca, ancora, non riuscivamo a vincere, non riuscivamo a segnare…» «Lai ha segnato…» «Poi si è attaccato al cancello…» «E ha guardato a me.» «Ah…» «E mi ha detto, non me lo ricordo ballare.» «Lo so, ma me lo ricordo io.» «Che è venuto attaccato…». «Non riuscivamo a segnare quindi è venuto lì, ha attaccato la grata e io ero uno di quelli attaccati lì e quindi ho uno dei ricordi indelebili.» «…» «Di Carletto.» Di Carletto che ha guardato, non ha guardato me, però per me ha guardato me, perché ce l'abbiamo vicino. In quel momento era tuo, era tuo, marchio, indelebile. E poi ti ho detto che abbiamo vissuto, cioè spiegare, io cerco di spiegarlo a un nipote molto milanista adesso, però riuscire a spiegare l'emozione, lì è stata la trasformazione di una società, siamo arrivati in cima al mondo, poi facendo anche un gran calcio. E poi prendendo anche un DNA un po' internazionale, perché con il Milan poi è diventato, nell'era Berlusconi, soprattutto internazionale, ma c'eravamo più risultati fuori che in casa. Con sacchi sicuramente, poi con capello più o meno uguale. Forse veniva quasi snobbato il campionato per privilegiare, forse. Dava gusto particolare quello, perché era la prima volta che si usciva proprio anche come idea dai confini nazionali e si andava alla conquista dell'Europa come idea di brand. Era per andare là, e quindi insomma ti segnano quegli anni. Eh sì, è più difficile vedere adesso le partite, se ti ricordi. È difficile. Guarda la sofferenza. Eh beh, è difficile, però è anche vero che non si può rimanere lì. Il Milan è una grossa società, se guardi la storia, tutte le società, anche il Manchester adesso non è in un momento, ha tutti i momenti di flessione. È una grossa squadra, le vedi come il Real Madrid, che ha i momenti, ma si riprende subito, ha voglia di ritornare lì perché sa che deve stare lì. Il Milan secondo me è in una fase di passaggio dove comunque siamo secondi con un allenatore che secondo me sta facendo bene. Ovvio, ovvio che quel momento storico era anche un momento storico, spero che non ci si dimentichi della storia del Milan, ma sono sicuro che non sarà così. Allora, se tu avessi la possibilità di scambiare per una tournée Ale con un giocatore della storia del Milan, cioè un duo te, a parte che Ale non lo sostituiresti mai, ma... Con Van Basten? Con Van Basten? Cioè io vado in macchina con Van Basten. Una volta Massaro mi ha detto, è un caro amico, Franza domani sono a pranzo con Van Basten, vuoi venire? Ha detto no. Ah no? No, no, non riesco. Non mangi? No, no, non riesco, non riesco. Ho detto Daniele, guarda, no, non ce la faccio. No, non riesco, non reggo. Ma veramente non sei andato? Non sono andato. E lui è il tuo idolo assoluto o ce ne sono? Sai, io adesso, a parte tutto, hai detto che ho giocato a calcio, non a livelli, però amo il calcio, per cui ho amato quel Milan anche per il gioco, come ho amato la Roma di Lidon, di Falcao, come? Mi dispiace dirlo, tanto di cappello al primo Inter di Mourinho, il derby io c'ero, secondo me, è una squadra devastante, ho visto giocare bene a calcio. Quindi sai, quel Milan era un Milan perfetto, si muoveva con meccanismi perfetti e quel giocatore che aveva davanti, poi tu hai tre quadri dietro. Sì, sì, manca lui, forse. Sono dei punti di riferimento per chi ama questo sport. Van Basten per me era la perfezione. E Ibra, per esempio? Beh, a me anche Ibra mi piace per il modo che ha di stare in campo, per il carisma, per la cattiveria agonistica che ha, quindi sì, sì, mi piace. Ovvio, sono due giocatori diversi. Van Basten era, si diceva, no, che saltasse il camoccio per non farsi male. Una volta parlando con Vierkemo gli ho detto qual è stato il più difficile da curare, lui mi ha detto Van Basten, perché innanzitutto era un bestione. E perché menava anche. Menava tantissimo. Ha detto, era faccia d'angelo, ma me le dava. Io gliele davo, ma le prendevo. Gran godentate, Vamba. Quindi era proprio il calcio. Beppe mi racconta sempre che una volta quando c'era il campo, mondiale del 90, c'era la sabbia in campo. E io ricordo sempre che vedeva Van Basten che si chinava e faceva finta di allacciarsi la scarpa, e intanto venneva la sabbia, e poi quando c'era il calcio d'angolo gliela tirava negli occhi. Vabbè, però racconta ridendo. Non te lo aspetti. No, non te lo aspetti. E poi loro si venavano, non c'era il Barça, ammazzavano le botte in mezzo alla rigore. Quindi era una cosa tra gladiatore, cioè proprio uomo a uomo. Era uno sport, le prendevi, le davi, stavi un pozzito. Adesso non si capisce di me. Adesso forse è eccessivo, secondo me, secondo il mio gusto. Il fischio, le cose. È un po' eccessivo, è diventato, capisco che. Da noi, eh, tipo in Inghilterra è ancora un po' così, in quella vecchia maniera, fanno dei contrasti durissimi. Sì, è un po' eccessivo per chi ha visto quel calcio, magari era eccessivo ai tempi, però... Beh, oddio, alcune immagini che vedi anche ai tempi, ho visto delle comitati a centrocampo, delle cose barbare proprio, cioè c'erano delle entrate barbare. Ma tu vivi anche un po' il contrasto tra quelle proprietà, quindi diciamo le proprietà padronali, ce ne sono ancora alcune, ma poche, e le proprietà invece, diciamo, più votate al business dei fondi. Ma sai, è cambiato il mondo, non si può... come si può fare un paragone? Io non me la sento di farlo. Non si può rimanere... a Milano, zona isola, è una zona malfamata, hanno buttato giù e hanno costruito il bosco verticale, il mondo va avanti. Io capisco che la gestione adesso di una società, sarei anacronistico a dire, ovvio che come nostalgia di un mondo che non c'è, però capisco che oggi è una società di calcio, è un grande business, si parla di rifare San Siro, è ovvio che sono legato, è casa mia, però posso capire che nel bilancio di una società uno stadio possa essere un indotto e un progetto che San Siro non ha. Quando salti, tu lo sai bene, salti al terzo anello, fanno tutti così sotto. Cioè ogni tanto dici, ma terra, qualche dubbio, qualche dubbio viene. Ogni tanto qualche oscillazione c'è stata. Allora, non si può negare che il calcio di oggi non è più il calcio di una volta, non mi sento di giudicare. Spero che arrivi una proprietà, perché penso che quella di adesso sia di passaggio, che pur facendo gli interessi, i suoi, faccia anche gli interessi della storia del Milan e faccia inevitabilmente gli interessi dei tifosi, perché possono passare i calciatori, può passare tutto, ma il Milan rimane e i tifosi rimane, perché il Milan è dei tifosi. Io dico il calcio proprio dei tifosi in generale, poi ovviamente la gestione è di altri, però poi è inutile, io dico sempre è inutile, fare o dire delle cose che poi non interessano i tifosi, perché se non ci stanno loro chiediamo tutti. Però che ci siano anche la gestione di questi interessi, ci sono, se io avessi ai miei spettacoli e tutta questa gente che viene a vedere, probabilmente li gestirei diversamente, è innegabile. L'unico che fa più ascolto è forse il Papa, ma… Sì, ma in alcune partite mondiali siamo là. Tanto io mi guardo a Messa la domenica e dico qui di Sia e mi… Fai tutti esauriti, sono 800, tutte le domeniche. Non credo che paghiamo. Se i paroci depositano la storia dei spettacoli, non gli andrebbe detta sta cosa. Se cantano forse qualcosa, guarda, non lo so, a Bramo non partire, non so se ci sia. Però se anch'io avessi i miei spettacoli, 40, 50 mila persone, tutte le settimane, cambierebbero anche i miei numeri inevitabili. Senti, invece tu potessi essere la mia seconda voce, diciamo, facciamo una telecronaca io e te, però puoi scegliere una partita qualsiasi della storia del Milan. Quale ti prendi per fare la telecronaca? Prendo una facile, prendo il derby 5 a 0. Vuoi vincere proprio facile? Eh beh, ho. Hai caduto uno. Neanche una finale di Champions. No, perché quello è quello che ti ha dato… Sai, la domenica perfetta è quando il Milan vince e l'Inter perde. Questa è la domenica perfetta. Quindi, sì, questa è una battuta, ma sai, se ritorno a quegli anni, io ho visto una finale di Champions e è un'emozione così forte che ce ne sono così tante da poter ricordare. Però il 5 a 0, sì, sì, farei il 5 a 0. Farei il derby. Facciamo un giochino, Blind Ranking si chiama. Cioè, io ti do cinque grandi bandiere del Milan e tu, senza sapere però quale viene dopo, devi metterla tra il quinto e il primo posto. Però non sai quali sono e quindi ti può capitare che poi ti aspettavi uno per metterlo prima e poi non c'è. Quindi, Blind è bellissimo. Gianni Rivera. Eh, come si fa? E dove lo metti? Te la prima e il quinto. Io ho iniziato con mio papà che aveva il santino di Gianni Rivera. Sì, eh. Cioè, era proprio… Qualunque cosa dicessero è per Rivera. Sì. Mi ricordo che una volta Berlusconi disse di Albertini era dai tempi di Rivera che non vedevo fare dei lanci così e il mio padre gli disse Eh, però il Gianni. Il Gianni. Dai, ma poi non si spettinava mai. Mai. Non ti conto. Mai, non si spettinava mai. Beh, qualcuno diceva che correva poco, però invece non era vero. Però era forte. Però correva pallone. Dai, siccome non so, e sei partito abbastanza in là, lo metto… Su quanti ne ho? Cinque? Cinque. Terzo. Terzo. Riccardo Cacà. No! C'è la sorpresa? Eh, becca. Beh, vabbè. E questa di quando è la maglia? Eh, questa? Beh, non mi ricordo più di che partita sia, però… Quindi c'è una delle tue maglie… Ce n'hai più di 50 in maglie del mio? Sì. Me le portavano a fine del mio tempo e dicevo alla mia ex… Non lavarla, non toccare, non guardarla. Vedi, dai, dove lo metto? Non mi puoi fare questa domanda. Eh, ce n'hai cinque, dai. L'ho preso il terzo posto. Dai, lo metto quarto perché… Ti spiego. Perché Rivera, comunque, questa è una bandiera del mio cuore, Rivera forse è stato più determinante nella storia del Milan. Quindi lo metto quarto, dai. Fabio Capello. Eh, Capello… Beh, anche Capello… Occhio, poi ti sono rimasti tre posti. Primo, secondo e quinto. Ti sono rimasti due posti. Il Capello lo metto al quinto perché fa parte, anche lui è stato importante. Forse nella scelta di Capello c'è tanto merito anche di Berlusconi, che l'ha preso. E quindi ha… Lo dice Fabio stesso. La sua grande capacità di vedere oltre. Sì, sì. Vediamo. Franco Baresi. Primo. Io dovete sapere che io… Tu lo sai, sei andato a casa mia, ho la… A casa mia all'ingresso ho tre foto. Ho la foto del signore, ho la foto di Baresi. Che è più in alto. Ho la foto di fianco di Atlee che salta su quello vattissegna. Quella mi devo dire che… Sì, con l'autocomio mi ha un po' sorpreso. In Sormontano. Ma è mai venuto Fulvio a casa tua? No. Quella è una delle cose che fa un po' incazzare Fulvio. Che gli riguardano sempre quel gol là, Fulvio. Io ce l'ho lì. Quando esco di casa vedo Baresi, bacio nell'ordine Baresi, il signore… Poi ho un'altra cosa di Baresi, poi io ho la fascia di Baresi firmata. E una volta sono arrivato a San Siro, ho parcheggiato sotto, sono sceso dalla macchina, c'era Baresi, ho girato la testa e lui mi ha detto ciao Franz. E io finì a Baresi. Andiamo? Vai per… No, vai. Baresi che dice a me ciao Franz. Basta, andiamo via. E poi Paolo Maldini, quindi secondo me. Paolo, sì. Quindi l'hai fatta, secondo te, giusta? Sì, secondo me. Primo Baresi, secondo Maldini. Secondo me… Terzo che era, quarto che era. Secondo me il Milan è proprio… Spero che questo sia un passaggio il suo distacco dal Milan, perché per me Paolo è il Milan. Ti è dispiaciuto quando è andato via? Tantissimo, tantissimo. Tanto ero felice di quando le cose stessero andando bene, perché poi… Questo è anche un mestiere che si impara, cioè Paolo ha vissuto di calcio, ha mangiato di calcio, non si può mettere in discussione, non si possono mettere in discussione le sue qualità, è una persona intelligente, l'ho sempre stata in campo, educata, sensibile. È un altro livello, come lo è Zanetti per l'Inter, sono solo come lo erano loro tre. Il grande campione. Paolo non si può discutere, ma avrei avuto lo stesso rispetto se fosse stato Juventino, penso cosa arrivo a dire. Stesso gioco con delle date in fauste della storia del Milan, classifica dalla 1 alla 5. Io ho fatto in tempo a vedere il secondo Verona. In ordine di dolore, cioè la 1 è quella che ti ha fatto più male, la 5 è quella che ti ha fatto un po' meno male. Allora, 10 maggio 23, il Milan viene eliminato dall'Inter in semifinale di Champions League. Quarta. Lavoravo io con la dot. Non l'ho vista. Cioè, voi eravate a teatro, tra l'altro e c'era il derby. Io ho lavorato anche, quando in un'altra semifinale che abbiamo passato, io ero al Ciak. Io ho fatto uno spettacolo che non si dica, non è mancanza di rispetto, ma col telefonino dei rigori. aperto nell'agenda. Non potevo. E adesso, beh, non so quando la pubblicherete, però adesso c'è l'11 aprile. Cioè, Mila a Roma, io lavoro. E quindi? Perché si fa l'errore di non guardare i calendari. Eh, lo so. Poi alcune cose non le puoi sapere che le fissi prima. E lo so, è così. E quindi fanno tutto il tempo con il mio assistente, Mariano, che è interista. E quindi quando lo guardo... Quindi sei circondato quando lo vuoi dire. Lui mi guarda in quel tempo e mi fa. E quindi mentre recito, quindi mentre dico le battute, quindi guardo la gente, poi guardo... E mi fa da stronti e mi dici... Che cazzo... Sì. Ogni tanto Ale, se sa qualcosa, te la fa la battuta... Sì, a fine spettacolo, sì. Sì, sì. Perché talvolta magari finisce e dico grazie a questa, è stata una serata meravigliosa anche perché l'Inter ha perso. E c'è un po' altro, no? E allora ovviamente appena può me la ridà. Anche durante lo spettacolo. 10 maggio 23... Ah no, questo l'ho detto. La Fatal Verona della stagione 89-90. Sì, quella l'ho vista con l'espulsione di Costa Curta. E ricordo il sangue freddo di Costa Curta. Sì. Io non lo conosco, l'ho incontrato, mi sembra una persona molto educata, un po' stile Maldini, queste persone... Ma lì mi ha colpito perché è uscito dal campo, gli hanno fatto un'intervista e lui tutto tranquillo, sì. Io avevo dato un'intervista. Io scusa, rispetto alla categoria, ma mi ha dato una testata. Eh sì. Prendevo il microfono, lo buttavo là. In alcuni casi ce la meritiamo pure. È un lavoro infame quello di fare le domande quando escono. Coraggioso. È un lavoro coraggioso perché ogni tanto ovviamente uno ha l'adrenalina, gli manca il fiato, cioè fuori un po' di testa. Beh, la metto, perché secondo me ho capito cosa c'è nelle altre. La metto al terzo perché l'ho vissuta, l'ho vissuta sulla pelle e mi ha dato dolore. Sì, mi ha dato dolore. La partita del faro spento contro l'Olympic Marsiglia. No, quello, eravamo già in una fase un po' stavamo vacillandoli. Quinta. Sì, quinta perché avevo già un dolore per altre cose. Iniziavamo un po', stavamo un po' scivolando. L'addio al calcio di Van Basten ha 28 anni. La metto a seconda solo perché è il primo posto. Ma lì c'era tutta la storia di piangere, no? Eh, lo so, ma lo ricordo. Non facevo la telecamera, ancora facevo la telecamera, ma mi ricordo... Ma mi commuove, ma lì è proprio anche l'umanità. Mi commuove sto ragazzo, giovani. Recentemente ho letto un'intervista che mi ha colpito tantissimo e lui diceva quando ho lasciato il calcio non avevo niente perché ho vissuto tutta la vita per il calcio e ha detto se tornassi indietro non lo rifarei. Dimmi che ho vissuto tutta la vita per il calcio. Perché mi sono accorto che non avevo niente. E lo so, lui gli fecero quell'operazione maledetta la caviglia gli aveva rovinato. Io mi ricordo seguivo da Milanello al Milan e seguì tutto quel tentativo di recupero. Con lui ti ricordi che ogni tanto diceva ce la fa e poi dopo invece... E' stata proprio una tragedia umana. Primo posto? Primo posto Ajax-Milan 1-0 in finale di Champions League? Ah, perché ne mancano due quindi? No, era questo. Ma scusa, ti sei dimenticato una cosa? Quale? Ti ricordi che vincevamo una finale di Champions? Come no? Lo ricordo benissimo. Quella era la più... Lo sai che a me ad agosto gli interisti mi chiamavano ancora. 3-0 3-3 quella lì è il più grande dolore? Allora la cambiamo cambiamo Ajax-Milan 1-0 Come fai a non essere il mio più grande dolore? A agosto io avevo Gino, Michele, Michele, Colone che ancora mi chiamavano. Sì, e ti chiamavano quanto state? Perché io alla fine del primo tempo ero già ubriachissimo e lì ritorniamo al mio amico Vinci interista Daun il mio amico down interista che quella partita è partita al mattino lui non è contro il Milan e mi ha detto il Milan perde che non ha mai detto e io ho pensato a scherzare Dopodiché si è seduto sul divano e abbiamo visto la partita 1-0 e vince 1-0 e il Milan perde Vabbè 2-0 vince e il Milan perde 3-0 e il Milan perde 3-0 3 pari rigori perdiamo te lo giuro segna Liverpool lui mi guarda e mi fa il Milan vince è stata l'unica volta in cui non lo sbattavo guardo lo avevo buttato giù dalla finestra e reagito male lì non si è mai capito che succede lo sai che anche quando ne parlo c'era stata la storia che loro cantavano all'intervallo che non era vero niente io ho capito personalmente che le cose stavano girando ed erano destinate ad andare male non solo sul recupero ma sulla palla ribarzata su Sheva che salta la tira il portiere fa così e la butta sulla traversa lo sai che nel mio piccolo in un libro ho scritto che ho immaginato che lì ci fosse un angelo di qualcuno dell'Iver perché quella parata se tu la vedi adesso ancora fisicamente lui ha fatto così io non l'ho più vista lui ha piegato io ricordo che quasi alza il braccio ed è impossibile che la palla vada su in verticale la palla per forza deve andare e invece va su come se lui avesse un vetro le ali qualcosa non lo so è una parata senza senso ma proprio senza senso cioè fisicamente io l'ho rivista 20 volte per vedere frame dopo frame che succede e lì probabilmente ha preso una parte dell'osso non lo so ed è andata su dritto quello è il mio primo dolore sì dolore più grande sì sì ancora adesso pensarsi però poi io c'ero quella dopo e beh quella invece fu più tranquilla diciamo con Vittorio con Pippo lì c'ero quindi ho vinto una Champions e poi una sera ero a casa e mi chiama sempre Massaro caro amico mi dice Franz mi raggiungi era un ristorante però era tardi tipo a mezzanotte ho detto guarda Daniele è tardi e lui mi ha detto ho qui la Champions arrivo fu un corso gli aveva lasciato a Galliani se non si può dire perché è andata a casa ho detto portala a casa quindi c'era il ristorante chiuso e lui aveva la Champions poi ti faccio vedere la foto quindi l'ho preso l'ho alzato e la cosa bella che dietro sai che scrivono i nomi c'erano tre colonne e l'Inter era qua poi nelle tre colonne non figurava più perché non vinceva non c'era più perché non era ancora arrivato a 2010 quindi quindi mi ha colpito sta cosa che era lontanissima da tutti l'ho alzata leggera tu l'hai alzata io l'ho alzata una copia non l'ho alzata quella sembra molto più pesante ma tutte le copie sembrano un po' più no ti devo dire che quella del mondiale che invece è bella compatta che sembra perché è piccolina no? io rispetto ad altre e quella invece è abbastanza pesante e lì mi ha fatto credere Cannavaro che fosse quella vera invece era una copia la pazienza giravano 10 copie una erano rotta anche a Sina allora creiamo la tua top 11 del Milan il modulo lo mettiamo 4-3-1-2 o 4-3-3 se preferisci diciamo che noi per mettere dei giocatori un po' più nella loro posizione però 4-3-3 è uguale 4-3-3 sì va bene quindi cominciamo dal portiere ti diamo tre possibilità che sono Dida Menian e Donnarumma mi fa far commente allora Donnarumma è rimasto proprio qua a voi perché ho a casa un pacchetto di banconote di quelle che gli hanno lanciato ancora ma sai io anche qui ci rifacciamo alla domanda che mi hai detto in testa come vedi il calcio di oggi multinazionale io rispetto tutto cioè Donnarumma come fai a dire di no andare in una squadra che aveva Messi era Neymar sei giovane ma fai bene ma dillo cioè gestisci è stata gestita male è stato male tutto ma io sto ragazzo mi sono convinto che si avesse detto scusate vado ma non so se mai mi capiterà oltretutto quel Paris Saint Germain avrebbe potuto vincere tutto sulla carta chi è che lo fermava ma anche come esperienza quanto ti capita più di giocare con Neymar e con Messi io non avrei capito a parte che Milano si portava a casa quanti? 60, 70, 80 milioni ma dillo possibile che non ci fosse questa chiarezza e questo è il dolore che è il tradimento come quando scopri che la tua fidanzata ti tradisce dimmelo perché se poi lo scopro ci sto male se me lo dici ci sto male però dico apprezzo che me l'hai detto mi hai affrontato e me l'hai detto se non lo scopri se non lo scopri è meglio in linea generale però lì non l'ha detta e quando è uscito è stato doloroso quindi diciamo che ci si riludono anche perché poi la storia del Milan è anche la storia di una squadra che ti ha dato che ha preso tuo fratello e sarei tenuto in panchina che tra l'altro ha fatto una partita solo da Dio per cui è anche una squadra dove ci vorrebbe un po' di riconoscenza un pochino e allora non passerà mai questa cosa secondo me umanamente è stato l'errore perché sportivamente avrebbe potuto dire amo Milano per me è un'occasione ritornerò e adesso saremmo qui a aspettare a braccia aperte e se ritornasse un giorno ma no adesso a parte che abbiamo visto che anche tecnicamente esiste il meglio perché secondo me Donald Rume è un bravissimo portiere ma le sue belle cappelle le ha sempre fatte le faceva col Milano le ha fatte in nazionale dove siamo usciti ha preso un gol da 40 metri da soterra da 40 metri cioè questo qui con la Svizzera ha tirato una roba che va beh è tutto scusate qualche errorino l'ha fatto lì io dico anche che più spesso si vedono perché se Donna Rume fa 10 grandi parate è una cosa farò vedere solo quella roba lì è 10 grandi parate quello è il ruolo vediamo se in nazionale adesso vi convince Didem o Magnan guarda su Magnan Magnan è un fenomeno a me piace proprio tanto anche perché poi è arrivato a prendersi un'eredità in un momento non facile e comunque dopo Donna Rume che se ne dicesse quindi è arrivato in sordina gli do non posso non dargli 10 però non posso dare non posso non dare 10 note a un portiere che ha parato guarda andrò forse un po' contro tendenza secondo me Tassote era più completo perché difendeva meglio e spingeva che Tassote andava sì sì andava anche tecnico Caffù era brasiliano era un fenomeno Caffù era un ala che poi partiva da dietro è un po' come Florenzi che lo fa partire adesso da dietro ma Caffù era quindi anche qui il voto è 10 10 è lode forse Tassote nel momento in cui avevi bisogno di difendere il tasso c'era insomma non aveva paura di entrarti sulle ginocchia ti entrava sulle ginocchia anche in faccia ogni tanto soprattutto una volta centrale difensione di destra non te la faccio neanche c'era Tiago Silva Tiago Silva Tomori o Baresi Baresi anche qui però siamo su anche Tiago Silva insomma è stato importante fortissimo è stato lì è stato l'inizio di qualcosa che non funzionava perché non puoi vendere un ragazzo così giovane e lo so che faceva reparto già solo quello è stato un dolore un dolore che c'era dietro qualcos'altro sinistra Stam Nesta Costa Curta eh caspita questo non è facile no non è facile perché hanno tutte caratteristiche diverse secondo me Costa Curta era il più tecnico era il più tecnico era quello più forte tatticamente più intelligente calcisticamente Stam era un animale c'era un racconto quando giocava in Inghilterra che lui riusciva a essere cattivo anche il giorno di Halloween con i bambini che facevano un certo scherzetto che scappavano saltavano saltavano la casa di Stam in realtà io ho visto un'intervista di Warnister Roy che era negli anni insomma Ruth Warnister era un buon giocatore e disse una volta giocai contro il Milan e c'erano Tassotti Stam Nesta e Maldini poi al centrocampo c'erano Gattuso e Sidor e ho detto non ho mai tirato in porta non ci sono andato neanche vicino purtroppo non mi sono proprio avvicinato perché avevo proprio delle vegnate per cui Stam era quello ovviamente più fisico e Nesta forse era era la via di mezzo tra i due lì anche qui è proprio Augusto dell'allenatore prediligo tra Costa Curta e Stam tra Costa Curta e Nesta perdonami è Augusto metto Costa Curta però sono lì li metto allo stesso livello loro due Stam è un po' più fisico ed era un po' più ruvidino con i piedi terzino sinistro Maldini Maldini c'erano Serginio e Teo che comunque nei detti anche qui come fai è come dire preferisci una Ferrari la preferisci gialla verde o rossa la prendo rossa perché le altre ce le ho già no dico uno dice prendo rossa però che non abbiano non ho nulla Teo secondo me anche quello è un vero fenomeno però Maldini era la cosa no Maldini era il caro regista mediano Raikard Albertini e Andrea Pirlo questa è dura ma no ma è impossibile è impossibile è impossibile dai scendici buttati non so seguiamo una gamba a Raikard li attacchiamo ai piedi di Pirlo poi seguiamo non so a Raik guarda allora anche qui tecnicamente Pirlo e Albertini li vedo molto simili poi vabbè Pirlo era due professori basta vedere cosa ha fatto quando è andato via dal Milan che lo davano per finito guarda cosa ha fatto guarda scelgo Reika perché mi sembra quello più di contrasto un po' più fisico è vero era anche un po' più incontrista poi quando è arrivato in Italia era proprio un giocatore c'era poco in Italia quel tipo di giocatore lì vabbè più di buoni ma anche lui perché in quel Milan era un Milan leggero no ma che scherzi ribastonavano lo stesso Gullit l'amica 1 Gullit quando partiva mezzala destra Gattuso Desailly o Ambrosini Desailly diciamo che la posizione vera l'abbiamo messo qui anche se la posizione vera soprattutto con Fabio Capello davanti alla difesa però ma guarda io qui faccio un po' Ambrosini fortissimo Desailly fortissimo Gattuso il cuore anche quando era a Milano e che allenava speravo che andasse bene perché anche lui è un pezzo di di cuore per cui Gattuso cioè caspita perché non ha mai visto una partita del Milan dal vivo in quegli anni lì partiva la musica e Gattuso entrava in campo prima di tutta la squadra e mi ricorderò sempre che tutto un gobito e poi ci tirava entrava da solo da solo e poi ci tirava sulla testa poi mi racconta che una volta parlavo con gli amici della curva e ci dissero alla prima partita di Gattuso che era appena arrivato da Perugia se non sbaglio che entrò da Perugia che entrò in campo e mi raccontarono che entrò in campo arrivò alla palla un giocatore lui entrò in scivolata lo fece cadere andrò alla palla all'altro lui entrò in scivolata andrò all'altro entrò ancora in scivolata fallo ha detto basta dalla curva noi l'abbiamo amato da lì l'abbiamo amato e beh Marino non si può non amare poi era una persona di cuore io ho avuto modo di conoscerlo è una persona di cuore l'altra mezzala Donadoni Sedorf e Boban che diciamo da trequartista lo spostiamo a mezzala metto Donadoni perché anche qui per l'affetto ma tecnicamente li vedo tutti e tre molto simili trequartista diciamo terza punta Savicevic Ronaldinho Kakà ma come fai a mettere sì Savicevic per mordire però Ronaldinho e Kakà altro livello li fai giocare tutti e due come fai e quando giocava Ronaldinho Kakà Ronaldo matto no ma se io penso a quegli anni Ronaldo giocava ormai da fermo ma quanto forte era era fermo ma vedi il gioco tutti quelli che hanno giocato tutti quelli che hanno giocato contro Ronaldo l'intelligenza prima di tutto ma giocava gli ultimi anni almeno giocava da fermo e si vedeva che si divertiva non aveva più niente da dimostrare ma aveva gli occhi peccato che si è fatto male perché secondo me con quei movimenti avrebbe potuto giocare ancora ancora no ma poi chiunque l'ha visto giocare negli anni d'oro ne parla come giocatore più certo lo stesso Beppe ci racconta in allenamento mi diceva ci mettevamo quando c'erano le code per fare l'esercizio con lui scivolavamo per cercare di non essere anche Gansi ma lo diceva amici a Francia c'era fare una figura di merda davanti all'allenatore allora guardavamo dove era e contavamo e andavamo quello dietro per non trovartelo i dribbling queste cose perché si non li prendevano mai Beppe ti ha raccontato che il primo allenamento l'ha curato lui che mi ha detto la prima palla che ha preso mi ha detto lo curavo io ha detto vabbè è tutto di testa io sono alto quindi ha detto che è arrivata una palla alta l'ha contato anche a te ho fatto per anticiparlo lui mi è passato avanti l'ha stoppata ripeto me l'ha fatta passare avanti ha fatto pallonetto al portiere Beppe se la ricorda sempre questo è mio col Petto col Petto poi a Bergo a Bergo cioè non è che gli ha fatto passare a me vabbè a Bergo Petto gli ha fatto il pallonetto al portiere quindi guarda scelgo Kakà perché era quello in realtà me gioco molto con Ronaldinho che per me era anche lui il calcio però forse Ronaldinho lui era più verticale e poi forse al Milan comunque ha fatto meno di Kakà c'è il gol di Kakà con il Manchester sembra la partita di calcetto quando vai contro quelli che non ha mai giocato a casa lui senza sudare e il racconto di Nester quando raccontano dell'arrivo di Kakà a Milanello ah no quello lo so lui caspita che raccontano che dicono è arrivato questo con gli occhialini e hanno detto ma che cazzo hanno preso c'era Nester che diceva sembrava un chirichetto è arrivato con gli occhialini con la riga da parte ma che cazzo ma che cazzo poi dopo è sceso il campo io non mi hai capito perché poi lui proprio qui aveva trovato la sua dimensione che poi a Madrid ha fatto qualcosa ma non si è ripetuto comunque con continuità a questi livelli qua ma penso che hai anche voglia di metterti in gioco di fare un passo in più ci sta a un mano gli stimoli fanno parte di tutti i lavori e questo più che mai prima punta Shevchenko siamo andati diciamo ai tempi medio-recenti non si poteva da me Ibrahimovic Sheva o Van Basten? e come fai? Van Basten perché è Dio non è non è il calcio però Sheva quante gol ha fatto? no Sheva per me Sheva era anche era un po' ciodoloso era un po' sporco però tirava da tutte le posizioni faceva gol sempre Sheva era velocissimo e poi Ibra Ibra ha fatto il cappello sì sì no ma figurati però tre giocatori pazzeschi tu Van Basten è quello che ha rappresentato non riesco neanche a vederlo io io non ho foto mi fa male giuro mi dà dolore mi dà dolore è proprio un amore seconda punta Inzaghi Gullit Weha allora guarda Inzaghi Weha ti dico Gullit perché perché Gullit era secondo me quello più completo Inzaghi come hai detto te era quello più sporco più che però se guardi i risultati e i gol aveva un senso del gol qualche collega di Inzaghi diceva che era il miglior peggior giocatore del mondo è vero quanti fuorigiochi gli hanno fischiato era sempre però era sempre la volta che era sempre lì è la volta che non era io penso anche un giocatore che dice sì è uno che lo cura in fuorigioco in fuorigioco però sai che è lì cazzo fai tutta la partita che se fai solo un errore lui è lì non c'è il rischio che dici vabbè questa volta è là no lui è sempre magari una spanna dopo di te ma un attaccante che non si può spiegare a chi non l'ha visto giocare Pippo perché Pippo la faceva sempre sempre poi se li segnala tutti c'era il quadernone Pippo diceva no ma lui c'era il quadernone se li segnala tutti i gol era proprio l'ultimo bomber vero di razza che aveva avuto quello che giocava per fare gol un po' alla Paolo Rossi quello voleva fare lui voleva fare non gli toccava una palla e faceva gol per l'allenatore ti do cinque opzioni per ognuno di loro mi devi dire però anche cosa rappresenta per un tifoso milanista poi mi scegli uno di questi cinque Nils Lidon e Nils beh io l'ho visto poco però era mi sembrava anche questo l'immagine di un calcio educato pulito di valori e poi lui ha innovato tanto l'ho citato anche la Roma era un grandissimo allenatore una gagnatela non proprio primissima ha portato grandi novità del calcio quindi lo ricordo come un grande allenatore Max Allegri ma io non sono un grande stimatore di Allegri nel senso che secondo me al Milan si ricorda quello che ha vinto ma io ricordo quello che ha perso più che quello che ha vinto perché avevamo una squadra non da poco non da poco Carlo Ancelotti Ancelotti secondo me è l'idea a mio avviso dell'allenatore perfetto anche da un punto di vista umano perché l'allenatore poi deve saper gestire un gruppo perché questi vabbè tutti ma sono ragazzini tu lo sai quando li incontri da vicino dici ma questo è un bambino un bambino è un bambino finché li vedi in campo ma quando li hai vicini cioè non è Bergome che aveva i baffi a 18 anni sembrava davvero lo zio questi sono i bambini infatti saper gestire il gruppo è una delle domande Ancelotti riesce a trovare questo equilibrio oltre ad essere un uomo di una sapienza di una competenza Fabio Capello Fabio Capello mi sembra invece quello più razionale più più metodico quello più tosto quello più motivatore non per niente arrivava anche da una scuola motivatrice quindi quello più capace di far ottenere risultati al gruppo stimolandoli nel modo giusto e poi Arrigo io non posso che scegliere Arrigo perché sono sebbene sia sostanzialmente un matto Arrigo Sacchi perché era un simpatico un simpatico follo e ho avuto la fortuna di conoscerlo come tutti i geni ho avuto la fortuna di conoscerlo quindi l'abbia fatto tutta sera mi spiegava mi raccontava i suoi quadernini pensa che quello che faceva a te lo faceva tutte le sere tutta la vita ai suoi giocatori una volta maldita si può dire mi ha raccontato quando uscivo da Milanello mi nascondevo dietro le ruole perché se beccavo Sacchi che passava mi richiamavo mi diceva hai sbagliato un movimento perché hai capito che devi mai detto a fare mi teneva mezz'ora allora stavo nascosti dietro le ruole aspettare che uscisse però Sacchi ha creato dei movimenti Sacchi ha cambiato il gioco ha cambiato il gioco adesso io non so perché non so le dinamiche non so in quanto abbia influito anche le capacità di Baresi ma quel Milan faceva dei movimenti che non si sono più visti io mi ricordo che quando scendeva la punta c'era il momento in cui Baresi che era l'ultimo perché era il libero partiva da dietro e andava avanti e tu dall'altra volta dici ma dove cazzo va questo lui andava e tutti lo seguivano e tu in un secondo vedevi come una riga che faceva così ed era agli occhi una cosa proprio strana prima di Guardiola e quello che ha cambiato per il calcio Sacchi quindi Rino Smigel Sacchi e poi Guardiola poi non si può negare è una persona però la storia del calcio l'ha fatta quindi scegli Sacchi seggo Sacchi allora gioco della torre urca vacca chi putti giù tra Fernando Torres e Carlos Bacca io li butto giù tutti e due non è che ci sono particolarmente affezionato a entrambi non posso buttarne giù e salvarne poi due no facciamo vediamo tutti e due con tutto rispetto non li conosco neanche bene la Juve cioè la vittoria con la Juve nel 2003 o la vittoria con Liverpool nel 2007 diciamo la vittoria no no la vittoria con la Juve poi sui rigori quella lì più gusto quella gli occhi di scena eh beh pensa che una volta ho fatto un evento c'è anche te forse con Buffon e io l'ho detto non so se tu ti ricordi gli ho detto sai io ho attaccato al frigorifero una foto ce l'ho ancora tu forse le hai vista a casa mia in cui tu tiri fuori una palla ah come quella dentro di 40 cm e ho detto Buffon devi sapere che ci sono dei giovani che ti saluto un po' in modo un po' goliardico e lui rideva perché sai che ho fatto anche io quella delle gara che lì io non mi ero accorto che gioco è andata avanti ma tu puoi non accorgertene ah che era il tuo si è andato avanti no perché io ho già fatto il gol tutto quanto e poi pensavo che si è calciato il pallone così perché a valle era dentro un determinante palo palla buffon ma la cosa assurda qui c'è il palo guardadini è così ma quella è una cosa incomprensibile beh l'hanno messo la golla ai technology dopo quel gol lì praticamente era aumentata lì cioè non è identico perché ci sono ci sono stati i gol dubbi che dici da portiere io inizio a tirarlo fuori poi vedi ma lì non ha tirato fuori io mi ricordo che mi ritrovo perché poi tu lì che fai vedi il gol guardi l'esultanza aspetti il replay certo e mi ricordo che facciamo questa cosa e Beppe mi dà una botta e la palla era centrocampo e io guardo e proprio metto il mio tiro e che altro è successo perché non riuscivo a capire cioè non riuscivo a capire che l'arbitro non avesse segnalato quel gol lì è stato veramente veramente stranissimo il maestro Giampaolo o il maestro Fatih Terim chi butti giù e chi salvi il maestro Giampaolo salvi Giampaolo Abbiati o Sebarossi chi butti giù Abbiati e salvo Seba il gol di UEA contro il Verona costo cost da Ariaria o il gol di Gaga contro il Manchester United pensavo il gol di Theo contro l'Atalanta ah beh anche quello è un costo costo no guarda salvo quello di UEA perché insomma considerando che UEA in tempi aveva 56 anni non si è mai saputo non si è mai saputo però era un uomo di 50 anni era un uomo che dichiarava 29 io mi ricordo che a un certo punto la carriera si era fermata io mi ricorderò sempre che ero andato a Monaco a intervistarlo c'era Wenger che allenava il Monaco dove c'era UEA e mi diceva fortissimo fortissimo io poi gli chiedo quanti anni c'è lui già allora potrebbe essere adesso se lo vedi ha 109 anni l'hai visto è pelato è enorme e adesso ha l'età che è giusta che sono 109 109 quella giusta prenderesti più in giro Ale per la vittoria dello scudetto del Milan o per la retrocessione dell'Inter per la retrocessione dell'Inter purtroppo lo scudetto di Zaccheroni o lo scudetto di Pioli eh cavolo sono due due miracoli due miracoli ma sai dico quello di Pioli semplicemente perché voglio guardare al futuro Paloschio Cutrone cavolo neanche loro che storia due grandi speranze quando è entrato Paloschi ha segnato dopo 40 secondi tutti e due hanno segnato e Pato ero lì Pato con Napoli il debutto di Pato Pato con Napoli una partita bellissima fu quella c'era Poccio Lavezzi una partita pazzesca allora dico Paloschi sì il 5 maggio 2002 la finale persa o la finale persa contro il Manchester City quale ti fa più godere degli avversari degli interisti il 5 maggio diciamo proprio quella data lì ce l'hanno proprio stampata nell'anima poverini gli dici 5 maggio ma è una cosa che non si poteva pensare no è possibile se possiamo pensare l'autogolo a Bologna no bravo vabbè no si dice pazza Inter pazza Inter ama non per quello allora questa rubrica però c'è da dire posso dire spezzare una lancia a favore dell'Inter secondo me se ne parla troppo poco l'anima dell'Inter secondo me è marotta perché da quando è arrivato lui la società ha fatto da così a così da quando è arrivato lui ha detto alla signora Riccardi di smetterla di fare cioè prima l'Inter era una squadra da telenovela da novella 2000 è arrivato lui l'ha presa grazie adesso non dice più niente e Riccardi che era forte perché non era un giocatore da poco l'ha messo in vendita e ha fatto capire che cambiava tutto quindi tanto di cappello un uomo che sa stare nell'ombra zitto e ha portato una squadra a un livello alto ha creato una società che era un punto debole ma neanche con la grande inter di Moratti c'era la società perché faceva fatica Moratti era il papà faceva fatica ma infatti bisogna che in una squadra ci sia un grande dirigente un ottimo allenatore e degli ottimi giocatori se non c'hai uno dei tre elementi ma che vinci un grande euro assolutamente e se ti dico ti do nome e situazioni legate al mondo Milan e tu mi dici cosa ti fanno venire in mente così a brucia pelo e se ti dico Stadio San Siro? eh beh i ricordi di una vita è come andare a casa ogni volta che entri lì è come ritornare a casa e se ti dico Milan-Barcellona 4-0? eh lì ti dico una gioia immensa una gioia le lacrime le lacrime è persa la voce che va via e se ti dico Adriano Gagliani? il cuore Gagliani ci sono delle immagini che sono il Milan Van Basten Gagliani Berlusconi Maldini San Siro cioè per me il Milan i colori e se ti dico Mario Barotelli? Mario Barotelli a me fa tenerezza perché rimane secondo me un grandissimo talento inespresso e quindi un grosso ramarico per il calcio italiano e se ti dico Ibrahim Ba? Ibrahim Ba in che senso? e cos'è Ibrahim Ba? Ibu Ba cioè Ba il giocatore Ba ti ricordi? avevi capelli bianchi si bianchi gialli però mi dicevano che nello spogliatoio faceva tanto gruppo faceva tanto gruppo e ci aveva che ne vedevano perché faceva gruppo gruppo lo zio Santone c'aveva un po' di cose sai c'era lo zio Santone che faceva le benedizioni o le benedizioni una squadra ognuno ha un ruolo magari era meno determinante in campo però era importante per le dinamiche e se ti dico Lentini cavolo anche Lentini era un buon giocatore prima dell'incidente che l'ha segnato beh è stato ho un bel ricordo anche perché per noi tifosi è stato un momento in cui si iniziavano a comprare i giocatori Berlusconi è stato il primo veramente quindi per noi porca misera qui sta cambiando qualcosa dalla presentazione con l'elicottero all'arena e se ti dico Inter Milan 06 doppietta di comandini quelle sono sempre cose belle senti ultima domanda abbiamo tenuto tantissimo cosa ti auguri per il futuro del Milan se dovessi pensare adesso a un grande giocatore o una continuità l'hai detto te prima mi auguro una grande società che abbia voglia di far crescere il Milan e se in questa società ci sono poi le persone che conoscono e che hanno fatto parte della storia del Milan io da tifoso sono ancora più contento sono il medesimo ancora di più io spero che chiunque arrivi veda veda perché è innegabile l'aspetto economico della gestione di una grossa società ma veda anche il cuore di tanta gente che riempie che riempie lo stagio all'inizio come il tuo come il mio anzi aspetto c'era sorpresa me l'ho portato anche la sciarpa della curva questo è proprio tu hai frequentato tanto no io ho amici ho amici e la curva sono cari amici quindi questa la sciarpa della fossa quella storica il cuore del Milan grazie grazie a voi grazie a voi grazie a voi